Si è parlato delle salzare, il complesso immobiliare che oggi è una situazione drammatica nel comune di Ardia. In questo contesto quali saranno i prossimi interventi che verranno fatti per migliorare la sicurezza nel territorio? La salzare è una situazione molto particolare che va affrontata in maniera drastica. Noi abbiamo lavorato in questo periodo per acquisire a patrimonio tutte le abitazioni che dovrebbero essere abbattute ma che intendiamo salvare quando non si trovano nell'area archeologica da salvaguardare. Questo ci consentirà di regolarizzare molte posizioni attualmente irregolari di persone che occupano non propriamente quegli edifici. C'è tuttavia un edificio in particolare, uno dei quattro che sono rimasti, che dovrà essere abbattuto. E su questo abbiamo chiesto l'aiuto della Prefettura sia in termini di sicurezza ma anche di azioni da effettuare. Abbiamo ad esempio un intervento del Genio Militare per aiutarci nell'abbattimento.